Ciao ragazzi, ragazze e benvenuti in questo nuovo video, questo video molto speciale perché sono in compagnia di mia madre! Salute, ciao! E oggi ho pure il telecamera che è il mio padre, saluta il telecamera. Oggi con mia madre andremo a fare la yoga challenge! Ciao! Ah, no! Ok, cominciamo subito. Allora, misciamo le posizioni. Allora, come prima posizione facciamo questa, mamma, va bene? Ok, dai, si fa! Mi ha detto prima che era facile, no? Allora, prima falla a tu, mamma. Tutti e tu? Prima tu e la faccio io! Gabri e te se ne è! Su, su! Ok, adesso metto un po' Su, la capriola! Ok, basta, non mi c'è io! Guarda qui, sui, sui, sui! Eh, Priscila è più brava! Eh? Priscila è più brava! Io sono più giovane! Ok, questa è andata! Mamma! Ok! Ok, ora facciamo questa, ok? Qua? Eh, no, io me lo faccio, mamma! Facilissimo! Vabbè, già ci metto le foto! Eh, sì! Prima, prima ci dobbiamo dare le mani, perché quando è fatta con il mio padre è sbagliato, non ti riprendete il profondo! Ok, mettiamo il piede di col... No, ma ti tirai indietro! E l'alziamo le gambe! Come... Come che ne sono riuscita! Forse mi chiede più come... È difficile! Come si fa? Ok, vieni su, mamma! Wow, questa sì che è bella! Yeee! E vai! Ok! Anche questa riuscita! Eh, vai! Oh! Che sta andando male, mamma! Ora questa! Allora, io sto così e tu ti metti sopra! Sì, ma tu devi fare questo! Sì, e te... Vai! Vai! Allora, l'espendo! Vai! Sono andato? Sì! Vai! Sì! Ok! Allora, adesso vai! Guardate la telecamera! Questa non è venuta tanto bene! Questa non è venuta bene! Rifacciamo! Che bella della mamma! Dai, ci dobbiamo... Dai, mamma, riproviamoci! Eh, noi! Oh! Oh! Uno! Due! Dai! Buona, buona è! Ora è buona! Ok! Ok! Questa! Sneak! Ammazzai se la mamma, vicino! Ah, ma te lo faccio male, mamma! No! Lo ziggono! Ok! Ok! Questa non è così così! No! Ok! Questa era la terza! Eh? La terza questa era! Sì! Poi, questa! Io faccio il punto e tu... È facile questa! Io faccio il punto e tu... Ok, ok! Allora... Mettiglielo! E questo che cazzo! Cosa c'è? Yeee! Ok, lasciami! Bravissimi! Questa bella è stata! Grazie! È facile! È questa veniva a volerlo a mettere! Ok! Ora questa! Io faccio magari quello! E questo? Lo devo essere buono, sai? Ok! Vai! Aspetta! Così! Così! Vai, fai! Così! Ok! Quando tu hai caldo, però... Poi che tu hai caldo, sono! Ehi! Pronti! Aspetta! Mi hanno capisco! Mi hanno un momento! Ok! 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 ora questa, che è come quella di prima, solo che i piedi sono fuori e le mani sono dentro, va bene, va bene, allora, dovi le mani, tre, due, e l'ho convinta che ci stiamo muovendo, tre, due, uno, vai tutta, vediamo la prossima, aspetta, c'era questa però io non so se ci riesco a farla, forse devo fare il plante sopra la traschia, dai, io ci provo, probabilmente non ci riesco, devi fare quello di prima, no, più in là, guarda se ci riesce, non troppo perché no, plante, vai, ma come, piscina, aspetta, te sei troppo guarda, mamma, allora, io sicuramente non ci riesco, non ci riesco, ma mai ci stiamo riuscendo, aspetta, scivolo, un attimo, non ci riesco, vai, ci sei riuscita, dai, ci sono riuscita, dai, due, uno, non ci riesco, non ci riesco, vabbè, questa non è andata, dai, io lo sapevo, questa non è riuscita, comunque, le posizioni sono terminate, spero che, vieni mamma, spero che questo video in compagnia di mia mamma vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale, e niente, ciao! 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 ciao